we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi forse non lo sapete ma da pochissimi minuti è stato scoperto il forced byte numero 2 ragazzi come vedete se andiamo nella parte relativa nelle sfide del fort byte il numero 13 in questo momento l'ho appena guadagnato volete sapere dove si trova ve lo faccio vedere subito ragazzi basta semplicemente andare in mappa e raggiungere un punto molto interessante e anche molto particolare della nostra parte desertica del bioma deserto vi ricordo ragazzi mentre aspettiamo che entri in game che fort byte hanno un certo countdown nel senso il prossimo sblocco come vediamo è fra 15 ore e 22 minuti adesso sono circa le 23 30 del giorno 9 maggio quindi ogni tot ore ne appare uno in mappa vi spiego innanzitutto dov'è la posizione ma ve la faccio vedere con precisione ecco proprio qua ragazzi dove ho puntato il ping siamo nella parte quasi più bassa del bioma desertico in poche parole dove ci sono i dinosauri lì dietro c'è una casetta ma dietro alla casetta c'è un un cesso pubblico easy nel senso c'è un cesso pubblico e dal cesso pubblico se lo spacchiamo potremo recuperare il fort byte numero 2 non serve assolutamente nessuna skin particolare quindi non come è stato per il primo dove eravamo obbligati a tenere la skin sentinella per poterlo sbloccare quello del bioma ghiacciato per chi non avesse preso intanto il fort byte numero 36 che è il primo si trova esattamente su quest'isola ragazzi quella vabbè adesso non so perché zoom a merda così comunque quella che c'è in basso a sinistra della mappa ma come vi stavo anticipando poco fa ragazzi dobbiamo raggiungere questa posizione pagata la mappa ragazzi niente ve lo faccio vedere senza senza andare a pingarvelo quelli sono i dinosauri dobbiamo semplicemente raggiungere l'abitazione la casa che c'è dietro al che dinosauro è quello lo stronzo sauro non me lo ricordo io l'ho già preso come avete visto ma a voi basta semplicemente spaccare questo pc e proprio qua ragazzi apparirà il fort byte numero 13 io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani alle 13 in live ciao